...e' diventato nel tempo sempre più forte con i direttori delle due vittenti in onda media, quindi Luca Betti e Maurizio Ponno, per la volontaria di un disco duro per la due voce della speranza, che è il quale non sono possibilità nel contesto di ascolto, quando non è che quello che è il disco finito, la programmazione di un italiano è anche quasi assorto la gestione attraverso quello che riguarda la presso, può capire in pari che ha avuto questo tipo di risso, tantamente il programma di rispetto all'inizio nazionale e operare assolutamente impossibile quella di due portolacca, di ora di questo Firenze, senza la sua presenza non sarebbe possibile la mette in onda di questo profitto. Grazie a tutti.